Saluto, saluto! Presusto, non te l'avete fatta grande! Sei riuscito con maestro! E l'avete abbandonato! E l'avete abbandonato! C'è? Fanno i quadratura! Eh eh! Fatti chi le dita così! Ha detto così? Ma non potevo bucare giù l'occhio! Se lo fai tra i nallo! Un solo uomo al comando! Il prof Vito Corvino! Oh! Che fai? Eh? Che fai? 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 Dopo la seconda sosta tecnica ora si ci dilatta! Che fai dai? Che fai dai ora? Che fai? Che fai dai cal planner? A Gioana, come facciamo quello, un blu cazzo? cipolle sulle tiembe oh ma no non ce l'ha buttato non ce l'ha buttato un po' di l'aria rinchi questa è la quarta sosta tecnica la quarta poi il caffè ciò che lo vediamo la prossima buca l'aria grande gente ho il cano bravo oggi il prof ci ha superato guarda questa storia sull'accusivo posso svegliare solo che è bucatura questa è la quartia grazie 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 grazie